Io sono venuto di volata perché Destro è talmente bravo e ha fatto rete e siccome il mio movimento è nato dalla rete voglio candidare Destro! Così mando a casa Di Maio e lui diventa il mio braccio Destro! Ecco, questo diventa il mio braccio Destro, questo era Beppe Grillo, ma secondo me abbiamo degli altri politici che si aggirano per lo studio, ma ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità, torniamo subito, state con noi, Canale 110, non staccate il titino! Qui si tiene? Vale, vale!